bella ragazzo di missioni cerca un muro di graffiti coperto di graffiti o idro 16 o a gatto grill farò vedere a gatto qui dove si trova troviamo esattamente qui ragazzi questa è la posizione esatta pingata andiamo dritto per dritto scendiamo giù qui vediamo il muro esaminiamo la missione ragazzuoli è bella che completata come sempre spero che video vi sia stata utile alla prossima bella bella